E' morta stroncata da un malore improvviso, contro il quale non sono bastati soccorsi tempestivi di colleghi e personale sanitario. E' scomparsa così Giovanna Fabrica, 44 anni, originaria di Naro in provincia di Agrigento, maestra presso la scuola primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea, nel Veronese. L'insegnante abitava a Cerea con il marito Angelo e dallo scorso anno insegnava presso l'Istituto Ederle Scienza e Geografia. Il malore l'ha accolta ieri pomeriggio alle 14, mentre era in classe con i suoi bambini dopo aver concluso da poco la lezione del consueto rientro pomeridiano. Improvvisamente, dopo aver salutato il collega d'italiano che era entrato in classe per svolgere le ore successive di lezione, la maestra si è accasciata a terra prima di uscire dalla seconda B. Il maestro, tempestivamente senza farsi prendere dal panico, è intervenuto subito praticando il massaggio cardiaco, appreso lo scorso anno nel corso salvavita che l'Istituto Ederle aveva attivato per tutto il personale. Nel frattempo, richiamava l'attenzione degli altri insegnanti perché si precipitassero con il defibrillatore in dotazione alla scuola e portassero fuori i bambini che, sotto shock, avevano assistito alla drammatica scena. Mentre il maestro ha continuato per un quarto d'ora la manovra di rianimazione, sono arrivati sul posto un'ambulanza del 118 e subito dopo l'elisoccorso di Verona Emergenza. Purtroppo però, nonostante 30 minuti di tentativi per salvarle la vita, per la giovane maestra non c'è stato nulla da fare.